e lo zodi 105 presenta faccia a faccia pronto pronto aia pronto si chi parla non sento non la sento lei è il signor non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? lei cosa vuole in tortale? in tortale non l'ho capito non la sento non la sento senta tanto non la sento perché mi risponde? il modo che parla non si riesce a capire non sento cosa dice allora provo a passarlo mio collega un attimo come? pronto? come? mi sente? ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? lei cosa vuole in tortale? come? eh tanto non la sento chi parla? senta mi sente? come? eh il modo che parla non si riesce a capire ma non è il mio modo di parlare sarà il telefono non sento cosa dice basta pronto? senta adesso eh? sente? non sento cosa dice menti giù non so cosa farci non la sento non la sento non la sento parli più limpidamente magari ma altrimenti se parla così non la sento sente adesso eh? sente? chi? pronto? sì non la sento ma bene non so cosa farci mi ha il centralino ma chi parla? ma come chi parla? è lei che chiama? eh? occhio occhio giurante anche a lui adoro pronto? 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 ma chi parla? è l'ufficio della polizia stradale di Milano chi è? eh? l'ufficio della polizia stradale di Milano chi è? eh il modo che parla non si riesce a capire non sento cosa dice no è lei che ha chiamato come? è lei che ha telefonato non la sento non la sento non la sento guardi niente è pronto? senta si dica questo è il centro dell'ai eh tanto non la sento si per i figli di puttana sai questo è il centro dell'ai parli più limpidamente magari ma altrimenti se parla così non la sento ecco allora parli limpidamente non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire ecco vada a dar via chiara adesso eh assento perché perché è un passo a me manca un sacco a me no sinceramente no a me manca no no devo dire che a me i telegiornali di plastica non mi mancano ma no ma manca manca sì manca per le sue robe ma quella quella era un po' l'Italia l'Italia diversa ma adesso c'è feltri ma feltri non ti dà soddisfazione è vero si scopa meno fighe no c'è ancora Roberto Giordano no c'è Giordano c'è i cuori Roberto Giordano è ancora a fare i telegiornali ma non ha ancora fatto i 18 anni non lo so lui ha 16 anni ma lo salutare Roberto Giordano ciao come puoi essere incredibile così è un po' bevone sai che anche con la mosca di Darth Fener lui arriva alle feste ciao ragazzi sai che a proposito andate a vedere su Youtube la voce che avevano scelto originale cioè l'attore che interpreta Darth Fener Darth Vader poi aveva una vocina di merda con l'accento inglese e a metà film Lucas ha visto ha detto no amiche non è credibile e l'ha fatto ridoppiare da quello nero da un nero di 6 metri esatto in Italia vabbè la voce gli era data un doppio ho fatto giurta lui è così anche quando scrive è impressionante noi ci risentiamo domani dalle 2 e 4 grazie a Pippo Palmieri grazie amici a domani sai che il tuo socio morirà presto cioè io io lo odio a dei livelli ma sta mangiando kebab fagli mangiare kebab ma dove è andato a fare il video di chi di cosa perché Istanbul è la nostra nuova canzone ma chi se le incula ma chi lo guarda il video se la vostra nuova canzone va lui a fare il video devi curare un attimino tutte le cose tu ti rendi conto che sei un babbo di minchia tu non hai capito un cazzo Pippo lo sai tu sei il Marco Mazzoli delle regie forca troia fidati allora il tuo socio è andato in crociera e tu no adesso è Istanbul e tu no e lui non ce l'ha la zaffir ho capito tutto dalla vita lui gira in mercede sporca troia grazie alla popi popi ciao domani ciao bella tettona grazie a Fabio Lisei salam aleikum grazie ovviamente Marco Dona Luca Alba Macio Capatonda Ivo Avido Paolo Noiz Marco Mazzoli il genio ragazzi ragazzi ai 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 baciami madonna che alito di merda ma tu che alito Marco ho bevuto lo yogurt cazzo grazie al gran maestro della ghaieria saluta manina in rata bambino scemo grazie alla culpa di Vieturati e soprattutto alla grande famiglia sulla pagina di Facebook ci risentiamo domani dalle due le quattro dal programma che non piaccio ciao a tutti ciao Maestro adesso lo scopo Tanti auguri Alessio per i tuoi 18 anni Mio nipote Vieni di là adesso È il momento del pompone